Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo e vi racconto e vi commento Juventus-Ambdoria, 32esima giornata di campionato. Allora, prima di tutto una premessa. Il Napoli viene mezzo fermato dal Milan con un pareggio grazie anche alla parata di Gigio Donnarumma che al 92esimo para su Milik. Quindi chiaramente questo risultato va benissimo, conoscendo poi il risultato ovviamente il 3 alla terra della Juve ci va ancora meglio perché abbiamo acquisito altri due punti sul Napoli. Quindi siamo più 6. Più 6 alla 32esima giornata. Non vuol dire nulla, stiamo tranquilli perché c'è ancora una sfida importante domenica prossima che potrebbe definire un po' le cose. Quindi però, insomma, è già un buon pacchetto di punti di vantaggio. Di qui a Napoli ci sarà una partita mercoledì contro il Crotone. A Crotone, attenzione, perché talvolta perdiamo punti, partite come queste, in stadi di squadre piccole che però si esaltano per il momento perché c'è la Juve e così via e poi magari ci soffiano via un punticino. Quindi attenzione. Però a Napoli, contro Napoli, non a Napoli, perché sarà Juventus-Napoli, non dico che non si decide la matematica del campionato, ma dovessimo portare a casa un punteggio utile, visto dal più 6 adesso, chiaramente sapete un po' quello che dovrebbe essere l'esito. Però fino a quando la matematica non dice Juventus o Napoli campione d'Italia, non si parla di Scudetto, ma insomma ci si avvicina un po' con le previsioni. Parliamo di Juventus-Sampdoria. Una partita oggi si è giocata molto bene, una relazione molto positiva da Juventus. Io lo prevedevo la cosa perché per come è uscito da Juventus c'era molta rabbia, molta voglia di rivalse, di far bene, di vincere ciò che rimaneva. Cioè Juventus, Scudetto e Coppa Italia. È successo così, non ci sono stati cali, diversamente da quanto potrebbe esserci i sconfitti in cui meriti la sconfitta, ecco diciamo così. Quindi chiaramente oggi è girato veramente tutto bene, con una Sampdoria che si è resa sola dopo il secondo e terzo gol, quindi praticamente per 60 minuti, secondo me la Sampdoria, anche un po' verso la fine, è stata in partita perché ha fatto vedere qualcosina dal punto di vista del gioco e talvolta anche meglio di noi. Però nel complesso della partita Juventus ha gestito molto bene, è stata molto cinica, soprattutto con le occasioni che ci sono state nel momento in cui, in circa il 30-40esimo, entra Douglas Costa, che stravolge la partita. Farò un minutino, ce lo dedico dopo, Douglas Costa perché merita. Però prima voglio dedicare un minutino a un giocatore, un giocatore che è Benedikt Oudis, giocatore che è sfortunatissimo, molto atteso da Juventus quando si è parlato di lui, perché è un giocatore di esperienza, anche poi nel mondo 2014, tedesco che conosce anche altri nostri giocatori, è un giocatore con i controcoglioni, bisogna dirlo, e oggi ha dimostrato nella sua seconda presenza con tanto di gol. Una buona presentazione di Oudis che fa solo un piccolo rino verso la fine, dovuto anche la stanchezza ragazzi, tu hai giocato 90 minuti, cioè sono i suoi secondi 90 minuti, 180 in tutto l'anno, capite che un po' di lucidità possa venire meno dopo 90 minuti come questi. Però nel complesso è molto bene, è un giocatore che secondo me purtroppo lo direttamente solo adesso, ma per fortuna solo adesso, nel senso che alla fine con De Sciglio, che dovrà finire la stagione, abbiamo lui e Licksteiner. Quindi nel posto di mettere Barzali e Taddezino bloccati in partite che possono essere molto importanti di qui alla fine del campionato, avere l'alternativa a Licksteiner e Oudis secondo me è molto buono contando l'assenza del capitano De Sciglio. Detto questo, quindi Oudis veramente bentornato e soprattutto spero che di qui alla fine, magari ci dedicherò un video, non lo so, però spero che non si rompa in modo che possa avere una buona speranza di ritagliarsi un posto anche nel prossimo anno, quindi un riscatto o un rinavolo di prestito, un riscatto ovviamente a condizioni più agevoli per la Juventus, visto che 13 milioni per un giocatore che fa 180 minuti o poco più, quelli che saranno, è un po' troppo. Vabbè, questo è un discorso che porteremo avanti. Juventus che si presenta con un 4-3-3, più o meno, diciamo così, con Buffon, Buffon tra l'altro in forma strepitosa, appunto conferma di quanto ho detto prima, Oudis sta morendo tra l'altro, Rugani, Chiellini e Asamoah, Alexandro che è sti panchina anche perché sinceramente non sente l'assenza di Alexandro nel momento in cui gioca questo Asamoah. Chedira, che va in gol tra l'altro, quindi molto bene Chedira, Pianis che poi esce prima per un blancholo fisico, non so di quale entità, Matuidi che sta entrando in forma normalmente, Quadrado, Dybala e Mazzukic che trova il gol ancora Mazzukic. Mazzukic a primo punto, ragazzi, quando hai due crossatori, come poi sarà Douglas Costa, come Quadrado, Obedez, Liechtenstein e poi chiaramente in quell'occasione, Mazzukic è fortissimo, sta giocando molto bene e sfortunatamente torna in forma solo ora Mazzukic. Diciamo che questo 4-3 ha fatto girare bene tutti tranne come Dybala, Dybala veramente opaco, cioè nel senso che non ha fatto male, ne ha fatto bene, non si è percepito in campo e secondo me questo è un po' un suo limite, nel senso che in una condizione in cui si manda il giocomodo sulle fasce, un po' lui è penalizzato. Pasce che poi sono sfruttate con Douglas Costa, nella piena consapevolezza dei suoi mezzi enormi, tecnici, tattici, tutto. Quindi molto bene l'impatto. Poi sono entrati Douglas Costa appunto che è il miglior in campo, ma qui vuole dedicarci 30 secondi perché Douglas Costa non si scopre oggi. Personalmente Douglas Costa mi ha stupito, nel senso che io si può che era molto forte quando arrivato da Juventus, ero molto contento contando il prezzo, quando andrò a 6 milioni contando 6 di prestito e 40 di riscatto, ragazzi sono spiccioli in questo mercato per un giocatore che ha al tempo 27 anni. Quindi chiaramente ce l'hanno regalato, siccome è un furto che gli abbiamo fatto noi, bisogna farlo dirlo. Ma non pensavo fosse così forte o meglio così continuo, così impattante. Non è iniziato molto bene il campionato, ma per un discorso di adattamento, ma secondo me è molto forte, sta imparando molto bene anche la fase difensiva, intercetta palloni, arriva sempre bene negli altri, assist, 3 assist ragazzi. Questo sta facendo assist per tutto e sta facendo dribbling, che è la sua specialità, è al miglior tasso di dribbling in Italia, il campionato. Quindi ragazzi è un giocatore spettacolare che secondo me fa la differenza più di tutti gli altri che vanno davanti. E tutti gli altri sono Iguain, Dybal e così via, ma senza Douglas Costa, secondo me si perde qualcosina. Douglas Costa dovrebbe giocare sempre. Poi un giocatore che ha nelle sue corde, per il suo fisico, può fare tanti minuti, giocare tante partite. È un giocatore che è grande, che deve riposare. Quindi secondo me, alla fine anche ciò gli va anche a favore. Quindi veramente Douglas Costa mi ha stupito più di quanto in realtà sapessi già fosse forte. Quindi veramente top. Poi è entrato Pentauncull, giusto che giochi anche lui, quindi è un giocatore che mi piace molto. E infine Andro Sturaro, il vicecapitano secondo me e un po' gli altri va bene così. Quindi bene, sono contento perché la reazione è stata quella che aveva previsto. Non mi stupisce quindi la reazione. Un 3-0 contro la Sampdoria un po' in ripresa dopo comunque calo nelle ultime partite. Dopo aver perso noi all'andata contro di loro, è una partita un po' strana. Quindi chiaramente va bene così. Un 3-0 che va benissimo anche con sapevoli del fatto che il Napoli ha detto un po' il freno a mano in questo ultimo frangente. Nonostante l'uscita della Goleague, ma è chiaro che una squadra così stretta per quanto tu possa eliminare le competizioni e puntare solo su una nello scudetto, cioè il campionato, resta poca cosa. Cioè sono quei giocatori che stanno andando un po' giù, bisogna dire la verità. Noi stiamo recuperando infortuni molto importanti, Quadrato ben recuperato, Bernardeschi e Lidì per recuperare. Quindi ragazzi potrebbe essere un finale scoppiettante e interessante, ma bisogna pedalare, veramente fare il nostro senza badare agli altri, se non quando siamo contro di loro. Quindi forza Juve ragazzi, bella reazione dello stadio, della squadra, di Buffon di tutti. La Juve c'è e non è morta, non sarà un schiaccevole inconveniente, diciamo, di quel Real Juventus a far svanire i nostri sogni che sono rimasti, che è il settimo scuetto di fila. Bisogna raggiungerlo in ogni modo possibile, immaginabile. Forza Juve, come sempre, alla prossima, ciao.